Siamo ai banchetti del Movimento 5 Stelle per difesa della Costituzione, qui siamo tanti attivisti e come vedete c'è anche Salvo Mandarà. Io filmo Salvo Mandarà che sta filmando, guardate, quello è Salvo. Salvo è insieme al nostro consigliere regionale Eugenio, con i cognomi non sono importanti, se ognuno vale uno ci chiamiamo tutti per nome, Eugenio insieme a Salvo Mandarà. Guardate, difendiamo la Costituzione. Grazie.